La società civile è al centro del dibattito politico e questo è il messaggio lanciato questa mattina alla presentazione della Rete Civica Nazionale. Qui abbiamo l'avvocato Aldo Ganci che è il coordinatore di questo movimento civico che è nato perché? Ma diciamo che la Costituente Rete Civica Nazionale nasce, proprio come dice la stessa parola, come rete che vuole aggregare movimenti, associazioni, cittadini, liberi professionisti, artigiani, imprenditori, quello che stiamo facendo per raccogliere, ripeto, la società civile e soprattutto con un fondamentale scopo, quello di rinnovare la classe politica, la classe dirigente e cercare soprattutto, partendo da noi, di iniziare un nuovo cammino politico. A livello nazionale il Presidente Angelo Todaro, che è la mente di questo movimento nazionale, di questa Costituente assieme al Gruppo Lauro di Napoli, ha scelto Siracusa come punto di riferimento a livello regionale. Il sottoscritto è coordinatore regionale di questo movimento, il Dottor Vittorio Rossi è il coordinatore provinciale e insieme stiamo naturalmente cercando di raccogliere attorno a noi tutto un insieme di reti, di liste civiche che si ritrovano all'interno del centro-destra sulla nostra traccia, sul nostro solco. Principalmente il nostro scopo è quello di cercare di convincere, fra virgolette, la società civile ad uscire dall'intorpidimento che fino adesso l'ha caratterizzato e ci ha caratterizzato un po' tutti. È difficile, è un percorso complesso perché sicuramente la gente ormai è disamorata, i cittadini sono disamorati, sono disincantati, non riescono più ad avere risposte dai politici e la prima cosa che noi abbiamo preteso all'interno della rete civica nazionale è quella di non avere accanto a noi politici di professione, di non avere alla spalla partiti politici perché naturalmente questi, attenzione, siamo un movimento politico, i partiti politici e soprattutto i politici di professione potranno aderire alla costituente rete civica nazionale ma come dice il Presidente Angelo Dodaro, in una seconda fila, ecco non in prima fila, in prima fila noi vogliamo persone come naturalmente qui ad Augusta con il coordinamento coordinato dalla collega Silvia Di Grande, come naturalmente il coordinamento a Solarino, come il coordinamento a Lentini, Carlentini, Francofonte, come il coordinamento a Pachino con cui andremo a fare un accordo assieme al Movimento Cambiamenti per presentare dei candidati all'attuale competizione amministrativa che si terrà a maggio a Pachino e giustamente sotto leggi del coordinamento del Dottor Vittorio Rossi che a Siracusa è coordinatore provinciale. Concretamente quali sono i prossimi obiettivi della rete civica? Concretamente gli obiettivi sono, è naturale, le amministrative laddove riusciremo a poter candidare perché, attenzione, noi non stiamo facendo una corsa per trovare candidati, non stiamo facendo una corsa alle poltrone, non dobbiamo candidare nessuno, nessuno di noi è candidato a nessuna, naturalmente, competizione elettorale, potremo appoggiare, è naturale, di volta in volta, come avviene a Pachino, come avverrà all'Europeco, allora ci dovesse essere un apparentamento perché non dimentichiamo che a livello nazionale già la rete civica ha, diciamo, concluso e formalizzato l'accordo con Alleanza Tricolore e con Innamorati dell'Italia. L'8 marzo a Palazzo Vecchio ho partecipato ad un incontro e quindi alla sottoscrizione di questo accordo e con questo movimento e quindi questi movimenti, come anche il movimento presieduto dal dottore Boldrin, fare per fermare il declino, con cui stiamo trattando per un eventuale apparentamento a livello provinciale. Tutti questi movimenti, qualora dovessero esprimere un candidato alle europee, un candidato alle elezioni amministrative, da parte nostra avranno l'appoggio. Questo è lo scopo e il fine che ci prefiggiamo. È naturale che a livello locale a Siracusa abbiamo già iniziato, abbiamo portato avanti delle iniziative e quali lo sportello, l'apertura di uno sportello gratuito, aperto ai cittadini, è uno sportello che darà consulenza fiscale, legale, contabile, economica, darà naturalmente un primo parere a titolo del tutto gratuito per poi naturalmente mettere in condizione il cittadino di potere, dovendo affrontare determinati problemi, quali per esempio a Siracusa la Tares o il distacco inopinato e illegittimo da un punto di vista costituzionale del servizio idrico nonché il distacco totale del contatore dell'acqua lasciando cittadini ammalati, pensionati, persone che vivono nel precariato, pensione che vivono con 500 euro di pensione o soggetti che all'interno di un condomino hanno sempre pagato e si ritrovano con il contatore staccato, portato via dalla 6-8, questi sono tutti problemi, problematiche di grande rilievo che ci trovano coinvolti in prima battuta. È naturale che come cattolici e come movimento di estrazione cattolica perché non dimentichiamo e non deroghiamo su questo che i nostri principi cattolici sono i principi ispiratori del nostro percorso e del nostro cammino, è naturale che partendo da questi principi ben altri sono i problemi che al di là di quella che può essere la sfera provinciale noi dobbiamo andare ad affrontare e dico industrializzazione selvaggia nel triangolo Augusta-Priolo-Melilli per non parlare di Siracusa perché dobbiamo verificare quali sono i veri intendimenti nella zona industriale di società come la Lucoil che è subentrata alla Erg e diciamo questo passaggio stranizza perché non vorrei che questi signori dopo quello che hanno fatto sul territorio nel triangolo di Augusta-Priolo-Melilli e in tutto il territorio della Sicilia orientale alla fine vadano via così come sembra che sia lasciando qui una sorta di deposito non bonificato. Abbiamo naturalmente dei problemi da affrontare a livello nazionale quali quelli per esempio della famiglia non il surrogato della famiglia, la vera famiglia la famiglia naturalmente nel vero senso della parola quelle che possono essere problematiche come l'aborto, l'eutanasia tutti dei problemi che sicuramente ci trovano in prima fila per combattere una battaglia che sicuramente è ardua e difficile. Qual è la ricetta della rete civica nazionale per ridurre il gap sempre più consistente fra politica, istituzioni e società civili? La ricetta sicuramente non ne abbiamo soluzioni non ne abbiamo è inutile che parliamo, facciamo demagogia o populismo dicendo che in definitiva noi abbiamo delle ricette che altri non hanno noi abbiamo delle soluzioni che altri non hanno però diversamente da altri noi ritengo che ci stiamo muovendo in un certo modo cioè dire ci stiamo muovendo ab inizio facendo delle scelte fra virgolette coraggiose scegliendo delle persone che in loco a livello provinciale, comunale, locale possano realmente scrollare le coscienze possano scrollare le coscienze e soprattutto cercare di cambiare il modo di fare politica cioè noi stiamo cercando di partire da un progetto serio portato avanti da persone diciamo che abbiano correttezza senso civico che si impegnino all'interno naturalmente della società e si impegnino senza ricercare il proprio personale tornaconto ma che siano esclusivamente al servizio dei cittadini grazie a tutti grazie a tutti